Un ammasso dilagante di rifiuti in via romana. La rabbia corre sui social network con le immagini che sono state immortalate dal consigliere comunale Meri Cornacchini, immagini emblematiche che riportano all'attenzione l'inciviltà dilagante che riemerge fin troppo spesso, angoli e anfratti della città che diventano discariche una volta ripulite dopo poco tempo tornano purtroppo nello stesso stato. Questi sono i rifiuti ingombranti che hanno segnalato diversi cittadini in un tratto di via romana utilizzato come una discarica abusiva. Vecchi materassi, un televisore, addirittura un frigorifero rotto, ma anche tanta altra sporcizia di ogni genere, cartoni, bottiglie, secchi di plastica e molto altro ancora. I rifiuti sono stati abbandonati lungo la strada in una piazzola diventata un vero e proprio simbolo di inciviltà. Al di là dei tempi di ripulitura di questa e di altre discariche a cielo aperto rimane comunque il dilemma che spesso si chiama in causa le istituzioni quando bisognerebbe fare un enorme salto di qualità nel senso civico di ognuno di noi.